Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con il vostro Dark House 92 Perché finalmente, e dico finalmente, e dico fin... Vabbè basta, 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 lasciamo perdere Finalmente è arrivato un pacco da Bartolini Vediamo un po' di cosa si tratta, no? Ecco il pacco Allora, vediamo un po' Cerchiamo di romperlo Dove faccio? Ok Ce l'abbiamo fatta, sì Dicevo, ce l'abbiamo fatta, sì Ok Quindi, in questo pacco ragazzi Ecco a voi Che ci sono le nuove cuffie Attenzione Della Razer Belle, belle, belle Allora, si chiamano Razer Electra Lamborghini, no sto scherzando Electra V2 Analog Gaming and Music Headset, ovviamente ragazzi Cioè io Ho detto perché ogni volta devo comprarmi semplicemente le cose che costano 20-30 euro Cioè costano poche Quindi spendiamo 64 euro Quindi questi qua ragazzi Costano 64 euro Al massimo vi lascio il link in descrizione Di queste cuffie su Amazon Allora, ovviamente l'ho preso con Amazon Prime ragazzi Perché con Amazon normale costavano un po' di più E quindi ho preferito prenderle con Amazon Prime Perché io Sono bello Comunque Tralasciando questo ragazzuoli Adesso andiamo Ad aprire Il tutto ovviamente Dovrebbe Dovrebbe Funzionano Io indietro non li posso riportare Perché Ma c'era qua l'apertura Ma che stupidino che sono io Quanto sono Ma poi Cioè raga Insomma Vabbè Comunque 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 Eccole qua Apriamole Vediamo un po' Perché ovviamente le dobbiamo aprire No, intanto mi sono fatto una bella doccia Iiiii Comunque stavo dicendo Mi sono fatto una bella doccina raga Anche per essere un po' più fresco Poi questo caldo che c'è Madonna in Sicilia Ma raga Si muore Si muore dal caldo in Sicilia Non si può stare Comunque Apriamole Per bene Le usciamo Ok Ovviamente sono con l'analogico Non sono con il cavo USB Che si attaccano Quindi ragazzi Capite no? Ok Adesso Ci sono Queste cose Che le lasciano Così Eccole qua Mamma mia Che benessere Mi ha danno ragazzi Danno Ma questo che cazzo è? Non mi dire che è il microfono Non serve un cazzo il microfono C'ho quello già Quello mio Del Samsung Ed eccoci qua Ah ho messo le nuove cuffie ragazzi Sono Più o meno C'è un po' strettine No? Però comunque c'è il tempo di farci l'abitudine Cioè il tempo di fare l'abitudine Quindi Niente ragazzuoli Se il video vi è piaciuto Mi raccomando E se vi piace Vi piacciono queste cuffie Della Razer Mi raccomando Vi lascio in descrizione Così le potete comprare E mi raccomando Ragazzi Cerchiamo di arrivare A 100 like Per favore Comunque Vieni a parte gli scherzi ragazzi Un bacione A vostra casa Noi ci vediamo Alla prossima ragazzi Mi raccomando Sare sempre sintonizzati Perché non vi faccio mai mancare Né video Né live Una volta al giorno Quindi Attivi Attivi Avete attivato la campanella Non l'avete attivata Non siete dei bufu No Siete la mia famiglia Io vi voglio bene Non fa niente Se non arriviamo ai like richiesti Perché voi Per me Siete tutto Vi ringrazio Un bacione E un abbracione Forte e grande Dal vostro Darkast 92 Noi ci vediamo Al prossimo Video Woohoo I'm singing like Girl You know I want your love Your love was handmade for somebody like me I'm coming now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say boy, let's not talk too much Grab all my waist and put that body on me I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead Mmm 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 Mmm